Trilogia dell'Io Sono, Saint Germain, I am King, Cagliostro. Prima lettura. A te che leggi io parlo, a te che lunghi anni hai compassione cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni, la verità, la felicità, la libertà. Dio, a te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miracolo nel deserto. A te che hai pensato di averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano la sua sapienza e le sue opere, solo per risvegliarti più tardi percependo che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere il tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, senza guida, io sono venuto. E sono qui anche per te che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e che cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, per chi ha fame del vero pane di vita io sono venuto. Sei pronto a ricevere il mio cibo? Se lo sei, calma la tua mente umana e segui rigorosamente la mia parola. Io, ma chi sono io che parlo con tanto potere e autorità? Ascoltami, io sono te, quella parte di te che è e che sa tutte le cose, che sempre le ha sapute e che sempre fu. Io sono te, il tuo sé divino, quella parte di te che dice io sono ed è io sono. Io sono quella parte più alta di te stesso, che vibra dentro di te, anche ora mentre leggi, che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore dovunque lo trovi. Poiché io sono il tuo vero istruttore, il solo che tu conoscerai sempre, il solo maestro, io, il tuo sé divino. Io non sono la tua mente umana, né il figlio suo, l'intelletto. Essi sono soltanto l'espressione del tuo essere, ma tu sei l'espressione del mio essere. Essi sono soltanto fasi della tua personalità umana, come tu sei una fase della mia divina impersonalità. Pesa e studia attentamente queste parole. La tua mente, d'ora in avanti, deve essere la tua serva e l'intelletto il tuo schiavo. Se vuoi che la mia parola penetri nella coscienza dell'anima tua. Ma si preparato al fatto che la tua personalità dubiterà di queste mie parole, e le man mano che le leggerai, poiché la sua vita è minacciata ed essa sa che non può vivere e prosperare, né dominare più a lungo i tuoi sentimenti. Il tuo andare e venire, come prima, se tu accetti nel tuo cuore la mia parola e le permetti di dimorarvi. Io sono sempre stato in te, ma tu non lo sapevi. Ti ho espressamente guidato attraverso il deserto dei libri e degli insegnamenti, delle religioni e delle filosofie, tenendo sempre davanti agli occhi della tua anima la visione della terra promessa, alimentandoti con la manna del deserto, perché tu potessi ricordare e apprezzare il pane dello spirito e tendere a esso. Ora è venuto per te il tempo di conoscermi coscientemente. È giunto il momento di attraversare il fiume e di passare nella terra di Cana, nella terra del latte e del miele. Sei pronto? Allora segui questa parola che è l'arca del mio patto e passerai a piedi asciutti.